Da circa un mese la squadra mobile di Teramo teneva d'occhio tre ragazzi della provincia che pareva gestissero un giro di spaccio. Protagonisti, tre giovani tra i 22 e i 27 anni che per sfuggire ai controlli avevano ingerito gli ovuli contenenti ascisce importato dall'estero. Sostanza stupefacente di elevata qualità con un principio attivo elevato, è una modalità di trasporto anomala per quanto riguarda questo tipo di sostanza. Siamo arrivati con un'attività di indagine, con dei pedinamenti, con delle osservazioni, li stavamo monitorando da tempo. I tre, un 24enne di Ancarano, un 20enne di Torricella e una 27enne di Teramo sono stati sottoposti a perquisizione personale e a ispezione. Da una prima perquisizione la ragazza aveva occultato nelle parti intime sei ovuli e poi chiaramente ci siamo insospettiti per cui abbiamo proceduto a fargli effettuare delle radiografie, le abbiamo accompagnate in ospedale e da lì è emerso che appunto erano pieni di questi ovuli e abbiamo aspettato tra l'altro il periodo ordinario di espulsione. Ricoverati e piantonati per evitare la fuga, dopo il previsto trattamento medico, i tre hanno espulso tra ieri e stamani 167 ovuli di varie dimensioni, pari a un chilo e 250 grammi di sostanza stupefacente.